Il report Istat 2020 rende manifesta la distanza tra la politica e i giovani, uno scolamento che riguarda il 30% della fascia d'età tra i 18 e i 34 anni e che sale al 50% nella fascia 14-18 anni. L'iniziativa del Comune di Chieti, proposta dalla consigliera Barbara Di Roberto, la cui mozione è stata approvata all'unanimità dall'intero Consiglio Comunale, vuole essere un tassello che prova a invertire quel trend. Così, venerdì 3 giugno, all'indomani della Festa della Repubblica, molti neo-diciottenni della città di Chieti riceveranno il cosiddetto battesimo civico in un'apposita manifestazione al Teatro Marruccino. Lo scopo è quello di riavvicinare i giovani alle istituzioni, alla politica e a quei processi decisionali che devono vederli protagonisti. All'evento parteciperanno anche parlamentari, il prefetto e l'arcivescovo di Chietivasto, Monsignor Bruno Forte. Una giornata che avrà un momento particolarmente significativo. Noi tutti consegneremo copia della Costituzione ai giovani. Questa copia che noi andremo a consegnare loro è un'edizione speciale edita dalla Giuffre Fransile Fevra, grazie a una collaborazione e una sinergia istituita con loro ed è un'edizione speciale per ragazzi curata dal professor Enzo Di Salvatore, che è un costituzionalista, un professore ordinario dell'Università di Teramo. E questa è una copia della Costituzione, devo dire, specifica per i giovani ma anche innovativa rispetto alle copie che generalmente vengono consegnate, perché ad esempio è aggiornata all'introduzione dell'articolo 9, quindi sulla tutela dell'ambiente. È la prima edizione del battesimo civico destinata ad avere un futuro. Già dall'anno prossimo, con l'accordo delle presidi degli istituti superiori, svilupperemo un progetto, un programma più ampio all'interno di tutte le scuole.